Sono trascorsi 20 anni da quando la nave merci Yasmina faceva il suo arrivo a Salerno. Era il 4 febbraio del 2003 quando si arrenò a Torrione nei pressi del lungomare Tafuri, dove è rimasta per lunghi mesi fino al successivo 15 settembre. Tanti ricordi tra cronaca e curiosità nelle parole del fotoreporter Massimo Pica, autore di scatti di una pubblicazione di una mostra, cinque lunghi mesi in cui la Yasmina divenne un luogo di scatti per salernitani e visitatori, meta ogni giorno di occhi attenti. Le operazioni successive di recupero della nave merci Yasmina, avvenute grazie al rimorchiatore Olanda e ad una draga, durarono complessivamente 169 giorni, giorni che hanno rappresentato una pagina di storia per la città di Salerno. Mi chiamarono perché sembrava un fatto di cronaca, anche strano. Scendi che c'è una nave alla deriva. Arrivamo giù dalle parti del Grand Hotel e in effetti sta nave sta arrivando sulla spiaggia e dopo un paio d'ore si adeggia proprio qui. All'inizio sembrava una cosa incredibile e poi è rimasta qui in effetti per quasi sei mesi. Ci sono stati tanti tentativi per portarla via. E niente, come dicevo, dal fatto di cronaca diventò poi un fatto di colore, folclore perché la gente passava tutti i giorni. Il traffico per settimane è sempre in tiltro perché la gente comunque passava di qua. Gli aneddoti, come stavamo dicendo prima, sono tanti. Arrivamo a trovare pullman qui di persone che venivano dal nord. Diciamo, ma come siete venuti appositamente a vedere la nave? Sì, siamo venuti a vedere la nave. Cioè, è un fatto, diciamo, incredibile. Poi c'erano ancora i social e quindi questo ha, diciamo, una valenza superiore. Figuratevi un fatto del genere oggi con i social, i cellulari, eccetera. Non sono mancate le foto romantiche perché il 14 febbraio ha riportato qui tanti innamorati a farsi delle foto, degli scatti con nello sfondo la nave arenata. Sì, è vero. Era diventata comunque una passeggiata, diciamo, quasi naturale sulla spiaggia e passare sotto la nave che poi la chiglia era praticamente a riva, era vicina. E notai, per esempio, l'ho messa sul libro, una foto di una coppia che fece la passeggiata e poi si fermò a guardare la nave e scambiarono anche, diciamo, il regalo di San Valentino proprio. Quindi ormai era diventata una, diciamo, una presenza normale. Ecco, la storia era chiusa in queste pagine di questo libro, proprio tanti scatti dal primo giorno fino al momento in cui la nave è andata via, un momento che è stato anche rappresentato in una mostra. Sì, facevamo felici la mostra in occasione del primo anno sotto i portici del Comune e ho raccolto queste immagini, diciamo, a futura memoria. Semplicemente perché, ecco, è un fatto che oggi molti adolescenti non conoscono nemmeno. Proprio per questo l'idea adesso è quella di portarla nelle scuole. Infatti qualcuno ha già aderito. Avremo degli incontri dove parleremo sia di fotografia, sia dell'evento storico e analizzeremo anche, diciamo, ciò che è scaturito da questo evento. C'è da dire che non mancano bambine che si chiamano Jasmine proprio perché durante quel periodo la nave che si era fermata a Salerno ha dato uno spunto ai neogenitori. È capitato anche questo, 20 anni fa, figuriamoci oggi. Grazie a tutti.